Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Desktop V-Box Gigas 4. V-Box Gigas 4 Ultimo Alto Prestazioni Gaming Gamer, PC, Multimedia, Desktop PC, USB 3.0 Computer 3.4GHZ Intel i5-4670K Quad-Core Processore 16 Gran Bretagna Off-DDR3333MHz RAM 2000 Gran Bretagna Hard Disk AMD Radeon R7-260X2 Gran Bretagna Scheda Grafica Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.